Top 5 dove andare in vacanza questa estate Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Per chi non mi conosce, sono Martina. Se state cercando l'ispirazione per le vostre prossime vacanze estive, siete nel posto giusto. Oggi vi presenterò le migliori 5 destinazioni che soddisferanno tutti i gusti, dagli amanti dello sport alle famiglie in cerca di relax. Continuate a guardare per scoprire dove potreste trascorrere le vacanze estive indimenticabili. Destinazione 1 Parigi, Francia, per gli amanti dello sport e non solo. Se siete appassionati di sport, Parigi è la destinazione perfetta quest'estate, specialmente in vista delle eminenti olimpiadi. Con eventi spettacolari che si terranno in tutta la città, l'energia e l'enturiasmo saranno palpabili dell'aria. Tuttavia, trovare biglietti e alloggio disponibili potrebbe essere una sfida. Magari, allontanandovi un po' dal centro, potreste trovare alternative interessanti che vi permettono comunque di passare alcune giornate immerse in questo evento mondiale. Destinazione 2 Creta, Grecia, per gli amanti del mare e non solo. Per chi è in cerca di una fuga rilassante al mare, non c'è posto migliore di Creta, con le sue acque cristalline, spiagge di sabbia dorale e affascinanti villaggi. Questa isola greca vi incanterà con il suo fascino mozzafiato. Preparatevi a godervi il sole, il mare e l'ospitalità greca senza pari. Destinazione 3 Firenze, Italia, per gli amanti della cultura. Per i viaggiatori culturali, Firenze è un vero paradiso, con la sua ricca storia, arte e architettura straordinarie. Questa città toscana vi catturerà con il suo fascino senza tempo. Esplorate i musei, ammirate i capolavori artistici e gustate la deliziosa cucina toscana per un'esperienza indimenticabile. Destinazione 4 Budapest, Ungheria, per gli amanti della spa. Se state cercando un'esperienza di totale relax e benessere, Budapest è la vostra destinazione ideale. Conosciuta come la città della spa, offre una vasta gamma di bagni termali e centri benesseri dove potrete rilassarvi e rigenerarvi. Dopo una giornata di esplorazione, immergetevi nelle acque termali e lasciatevi trasportare nella tranquillità assoluta. Destinazione 5 Lisbona, Portogallo, per le famiglie. Infine per le famiglie in cerche di avventure divertenti, Lisbona è la scelta perfetta. Con il suo clima caldo, paesaggi mozzafiate e numerose attività per tutta la famiglia, questa affascinante città vi garantirà una vacanza indimenticabile. Dai panorami alle deliziosi prelibatezzi locali, Lisbona conquisterà i cuori dei grandi e piccini. Ecco quindi le mie 5 proposte di destinazione europee top per le vacanze estive. Che siate appassionati di sport, amanti del mare, della cultura, in cerca di relax o viaggiate in famiglia, c'è qualcosa per tutti in Europa. E se siete una coppia con gusti diverse, tutte le proposte hanno più possibilità di appogare entrambe le aspettative di una vacanza perfetta. Spero che questo video vi abbia ispirato. Grazie per aver guardato questo filmato e ricordatevi di iscrivervi al canale per altri consigli di viaggio e non solo. Arrivederci a presto, Martina! Grazie per aver guardato il video!